A chi sta? A Vinnese la saluta! A Vinnese la saluta! L'acqua se funerà! Sai come si chiama la tua malattia? Amore! Testa di cazzo! Posso almeno andare al bagno? La tavoletta! La mangia la tavoletta! Signor Bressan! La zia Anna non c'è più! Ania! Ania Covacci! Io la chiamavo Anna, va bene? Ma è scemo? Ma lo colpisci sempre! Quelli siamo in frequenza! Come dite quei ragazzi? Un'epifania! 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 Concentration! Mio nome presteso è Zoran Spazzapan! Chiamati come vuoi, l'importante è che devi stare muto! Ma credi che basti vincere quattro salami per farmi contento? Come fai a occuparti di un ragazzino come Zoran? Perfetti? Ma se fosse questa la mia ultima possibilità! Wow! Grazie nipote! Grazie a tutti!